ciao a tutti cari amici amici sono dei pesci ben trovati con le previsioni per il mese di agosto 2022 è tempo di ferie e di vacanza anche per me tra pochi giorni partirò per il mare quindi gli oroscopi saranno momentanamente interrotti fino intorno al 22 23 di agosto 2022 nel frattempo intorno al 12 13 agosto però pubblicherò dei video interattivi ok benissimo intanto vi invito a seguirmi sul mio profilo di tiktok e instagram il tavo man vi lascio qui sotto tutto nel box informazione incominciamo a capire l'energia per il mese di agosto 2022 vediamo pescherò poi tre carte la prima carta è la carta 72 chiarezza mentale o nuova idea quindi qui ci sarà comunque maggior chiarezza mentale maggiore razionalità che vi permetterà di chiarire maggiormente come stanno andando le cose e su che binario procedere ci potrà essere comunque una nuova idea anche diciamo il fatto che vi balzerà alla mente un qualcosa per portare delle novità molto importanti anche nella vostra vita quindi le cose vi appariranno in maniera diversa rispetto a come avevate percepite fino ad adesso e questo ovviamente sarà molto molto importante ok vediamo di ottenere un altro messaggio dai tarocchi degli animali vediamo che animale riesce per il mese di agosto abbiamo la lucciola la carta dell'eremita carta 9 durante questo mese di agosto dovete concedervi del tempo per la contemplazione la solitudine e l'introspezione quindi vorrete stare maggiormente da soli non tanto a contatto con gli altri guida con la tua luce che è in cammino verso l'illuminazione e spirituale quindi qui grazie alla vostra diciamo razionalità farete luce dentro di voi e fuori di voi quindi porterete maggior chiarezza e maggior diciamo splendore nei confronti di un rapporto di una situazione dovete fare un po questo viaggio di conoscenza vostra di conoscenza interiore capire voi stessi per capire gli altri ok ma vediamo l'oracolo delle storie della vita o scusate l'oracolo dei pensieri o l'oracolo della vita che cosa vuole dirvi qua secondo me troverete la strada giusta provete il percorso giusto oracolo dei pensieri alzati e vai incontro al tuo destino quindi bellissimo prendete la macchina e andrete incontro al vostro destino dovete muovervi per cambiare per quel rinnovamento quella trasformazione dentro fuori di voi dovete cercare di non star fermi ma darvi da fare darvi una mossa quindi alzatevi e rincorrete le opportunità che sicuramente si saranno voi durante questo mese ok ma vediamo l'oracolo delle storie della vita che cosa vuole dirvi come messaggio ulteriore abbiamo una carta sfera amore amicizia famiglia ritorno del passato quindi questa carta comunque molto chiara per alcuni voi non per tutti ovviamente potrebbe esserci un ritorno del passato o da puntista di rapporti amorosi o da puntista di amicizia ma anche da puntista di magari membri della famiglia che magari siano allontanati da alcuni mesi oppure alcuni anni c'è proprio un ritorno del passato ok benissimo caro amici e amiche queste le vostre previsioni mi aspetto sempre qui sul tag on me ciao a tutti alla prossima